Sono nata a Bamenda, nel nord-est del Camerun. Sono la terza di sei figli. Mio padre è insegnante e mia madre è casalinga. Cresco da sola mia figlia di otto anni. Ho avuto la fortuna di poter frequentare il liceo e poi l'università. Amo la musica, la danza sportiva e passare del tempo in compagnia dei miei amici o colleghi. Oggi sono ingegnere agrario ed economista. Lavoro per l'organizzazione SITCRE, dove dirigo un dipartimento. Le nostre mansioni sono precise e apprezzo la collegialità che regna nella nostra equipa. Vado spesso nei villaggi. Ho contatti diretti con le contadine e gli allevatori. Vogliamo migliorare la loro situazione alimentare grazie ad una formazione mirata. Mostriamo loro come sviluppare sinergie fra pastorizia e agricoltura. Ad esempio fabbricando del composto biologico a partire dallo sterco per arricchire il suolo. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quantità e la qualità dei raccolti. Affinché le famiglie beneficino di un reddito dalla vendita dei loro prodotti. Le testimonianze delle contadine e dei contadini è ciò che mi motiva di più. Il nostro obiettivo è www.mesmerism.info e www.mesmerism.info e www.mesmerism.info e www.mesmerism.info.it www.mesmerism.info e www.mesmerism.info